Gianni Aman, compleanno a Cinecittà per aiutare i bambini Gianni Aman non è solo bello ma anche generoso. Infatti, l'attore turco, presto protagonista della serie TV Sandokan, sta organizzando una raccolta fondi per i bambini negli ospedali con la sua associazione Gianni Aman for Children e festeggerà il suo compleanno proprio con un evento benefico. Il primo di una lunga serie. Corsa all'acquisto dei biglietti. Gianni Aman ha fondato un'associazione che porta il suo nome, la Gianni Aman for Children. Che intende aiutare i bambini? L'attore turco, che presto vedremo protagonista insieme a Francesca Chillemi nella serie TV in viola come il mare. Festeggerà le ore precedenti il suo 32esimo compleanno con un evento benefico destinato alle famiglie, e non solo. Vediamo di cosa si tratta. Gianni Aman incontra famiglie e fan. Gianni Aman è pronto a incontrare i suoi fan. E questa volta non ci sarà bisogno di appostamenti o inseguimenti per potersi scattare un selfie. Avere un autografo o semplicemente poterlo vedere da vicino. Questa volta l'attore turco sarà ben lieto di sedersi accanto ai fan, parlare con loro e incontrarlo per le foto. Aman è a Roma al Meet e Gritaccine Città World proprio oggi, domenica 7 novembre. Dove ha deciso di festeggiare con i suoi fan il suo compleanno, che cade proprio domani, lunedì 8 novembre. Gianni Aman lancia i biglietti solidali. L'attore di Daydreamer incontrerà le famiglie presenti per un pomeriggio all'insegna della solidarietà con l'obiettivo di donare ai bambini del reparto di pediatria del Policlinico Umberto I di Roma alcuni macchinari necessari alle loro cure. E questo non è che il primo degli appuntamenti che il divo turco organizzerà per l'associazione da lui fondata, Gianni Aman for Children. Un evento questo a cui tutti potranno prendere parte, per aiutare l'attore a realizzare il suo desiderio, acquistando i biglietti. Durante la giornata, quindi, si potrà incontrare Ken e allo stesso tempo aiutare i piccoli del Policlinico. Basterà solo comprare il biglietto e mettersi in fila. Gianni Aman e l'associazione for Children. Gianni Aman ha deciso di aprire anche una pagina Instagram per l'associazione che porta il suo nome e che è dedicata ai bambini. Spazio in cui condividere e promuovere tutte le notizie e gli eventi che l'ente benefico organizzerà. L'attore turco ha spiegato, inoltre, di cosa si occupa l'associazione. Nasce nell'estate 2021, a seguito di una visita al reparto pediatrico del Policlinico Umberto I, l'associazione Gianni Aman for Children. L'associazione non ha scopo di lucro e ha per obiettivo affiancare e supportare, in ambito socio-sanitario, bambini e adolescenti. Opera promuovendo diverse attività legate alla pediatria e alla protezione della salute in età evolutiva. In particolare si occupa di raccogliere fondi per l'acquisto di beni strumentali da destinare alle strutture. Ospedaliere che possano investirli su attività di interesse sociale, sulla ricerca scientifica e in generale su azioni volte a garantire la salute dell'infanzia.